Ciao bello a tutti ragazzi e ragazze qua siamo da LupeTesla e oggi siamo su MiniWorld aspettiamo che carica che andiamo subito siamo in compagnia di mio fratello che si chiama Cristian saluta e non devo parlare? ciao mio fratello è sempre così no sono in tanti sono in tanti sono in tanti e cosa facciamo? anzi se facciamo un coso tutto nostro survival ditemi ditemi a sorella cosa volete che lei faccia survival survival creativa parkour ditemi cosa fare adesso lei sta facendo parkour no sta facendo creativa infatti questo è una casa che ho trovato così e mi sono venuto ad abitare anche se è troppo alta anche se è troppo alta scusate ma io per sopravvivere anzi questo è mio cane vieni qua vieni qua dobbì dove sono i cattivelli vengono di notte vabbè anche di giorni ci sono vero dobbì dobbì spara dobbì no è mio cagnolino lo amati infatti è mio aspetta io invece faccio christian aspettate perché sto mi sto concentrando c'è un multiplayer chi è il job no perché tu sei andato in creativa e hai fatto una tua lobby adesso tu sei il capo ciao venite io c'ho la mini no perché non ti prendisci quei raggi dopo da sparare dopo non so no povera piante sono andato a finirne ciao ciao ho 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 mi dott scusa cani vediamo perfetto li faccio perché gli ho sparato in faccia con il dito ed è venuto a piovere devo assai la casa si guarda se ne stanno facendo da un'altra parte raga cosa è successo scusate se non parlo molto perché mi fa male la gola ok ma per copiare qui non vado a giocare con loro a pallone ok scusate era mio papà qua è tutto da vittoria è tutto anzi dal lupo tesla ok